buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vediamo un mini mandrino che può essere utilizzato su dei motori elettrici piccoli che abbiano un determinato asse molto piccolo intorno ai 2 mm ecco qui vediamo le quattro ganasce che servono per chiudere punte frese e anche codoli da un diametro da 0,3 mm sino a 3,2 mm vedete che i diametri sono tutti differenti sia da uno molto piccolo che andrà a chiudere punte molto sottili a diametri più grandi sino a chiudere dei diametri da 3,2 mm qui andiamo il mandrino vero e proprio poi si mette all'interno la ganascia e si va a chiudere si va a serrare tramite la chiusura del filetto qui dove si va a inserire l'albero del motore questa è la brugola che va a chiudere fare in modo che il mandrino sia ben serrato e chiuso sull'albero del motore qui noi vogliamo far vedere le potenzialità di questo mandrino e poi stare a voi trovare il motore adatto che abbia una sezione per poter inserire questo mandrino la cosa interessante invece vogliamo far notare è che possiamo chiudere punte molto sottili e punte un po più grosse è fornito di quattro differenti ganasce per poter chiudere punte frese o codoli che abbiano un diametro da 0,3 a 3,2 mm qui vediamo come possiamo inserire una spazzola del diametro di 3 mm ecco qui andiamo a chiudere abbiamo utilizzato questo mandrino per chiudere una spazzola con codolo di 3 mm grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale grazie ancora